Ciao a tutti i Darpapi e dalla sede dell'Italia 4 Zamp e Ollus. Per tutti quelli che ci seguono con più interesse, qualche post fa sulle nostre pagine è apparso l'incontro avvenuto ieri tra Lia e Iulia, due volontarie dalla zona di Sezza in provincia di Latina che hanno voluto fare una donazione per l'Italia 4 Zamp e Ollus. Già avevamo preannunciato in quel video che la donazione andava girata in automatico ad Alba e Giovanna di Priverno, due volontarie di Priverno per Zac, un pelosetto che doveva essere sterilizzato, vaccinato e cippato per iniziare una nuova vita. E oggi abbiamo documentato e incontrato proprio Giovanna con Alba per chiudere la missione compiuta di Zac e questo è stato il nostro incontro oggi pomeriggio a Priverno in provincia di Latina. Tutti i Darpapi, ieri abbiamo incontrato Lia e Iulia per prendere la donazione che a nostra volta poi abbiamo rigirato a queste due ragazze, è proprio due pomeriggi pieni di belle ragazze. Oggi abbiamo Giovanna e Alba che hanno preso un pelosetto in mezzo alla strada e hanno trovato anche una casa e ci hanno detto che bisogna sterilizzarlo, ci parlo e vaccinarlo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci dà una mano e hanno chiesto aiuto a noi dell'Italia 4 Zamp e Ollus e noi abbiamo trovato grazie a Iulia e Lia di Sezze che hanno organizzato, vabbè non vi racconto un'altra volta tutte queste storie perché sennò sono lunghe, 100 euro, gliene servivano 120 giusto? Certo. Per sterilizzarle e quindi siamo a posto, mancherebbero 20 euro, ha detto Alba ce li metti tu? Ce l'ho messa io già. Già ce l'ha messa 20 euro. Lo date già Giovanna, l'abbiamo già provveduto. Abbiamo fatto tutto interno, siamo impicciati tutto quanto, 120 euro abbiamo rimediato per aiutare Zac e gliele consegniamo così abbiamo documentato anche questa cosa qui. E posso ringraziare? Ma come no? Posso ringraziare Elisa e Francesco che hanno preso con il cuore in mano Zac e sono sicura che veramente sono in ottime mani, quindi lo adorano e anche Zac adora loro. E Zac ringrazia. E quindi mandateci le notizie di Zac e fateci vedere tutti i vari passi che farà dalla sterilizzazione fino alla nuova casa perché le persone e noi anche siamo abbastanza curiosi. La curiosità non è solo donne, è pure terpopie. E quindi è un po' di tutto. Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Due giorni, due giorni ho preso otto baci. Non vi voglio di niente. Noi siamo l'Italia a quattro zampeollus, la voce di tanti pelosetti del mondo. Personale ringraziamento a tutti gli amici degli animali che hanno contribuito nella realizzazione di questa missione compiuta. Ricordate sempre, Italia a quattro zampeollus, possiamo essere quello che siamo solo grazie a voi. La voce di tanti pelosetti del mondo. Buona navigazione, Darpavi.